Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amo. Oggi vogliamo chiedere a Maria di sciogliere un nodo molto doloroso per tante nostre sorelle e nostri fratelli, il nodo dei tumori. Entrando nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Ravenna ed andando fino in fondo nella navata destra, si arriva davanti all'immagine della Madonna conosciuta fin dal XII secolo col titolo di Santa Maria a Tumoribus, cioè Santa Maria dei Tumori. Con il titolo di Madonna dei Tumori, Maria è stata conosciuta e venerata certamente fino agli inizi degli anni 50. Poi la devozione si è affievolita fino a scomparire. Recentemente si è ripresa tale devozione. Nella parrocchia di Ravenna si sente pregare quotidianamente per gli ammalati di tumore, per i familiari dell'ammalato, per i medici e il personale sanitario e per i ricercatori, affinché venga presto debellato ogni genere di tumore. A Maria, Madonna dei Tumori, vogliamo chiedere di sciogliere questo nodo dicendo. Madre Santissima, salute dei malati, tu hai generato colui che ci ha guarito dal peccato. Senza di lui quel male per noi incurabile ci avrebbe devastato. Tu sei la madre di colui che sana le ferite del male e che con la sua morte e resurrezione apre per noi le porte della grazia, fonte di salute dell'anima e del corpo. Tu sei nostra madre, a te ricorriamo fiduciosi. Ricordati di noi che siamo nella prova. Lascia, o Madre tenerissima, che preghiamo con te il figlio tuo e per la comune invocazione del suo santissimo nome, egli ci liberi dal male che ci consuma e ci conceda vita e salute. Tu che docile sotto la Santa Croce hai offerto la tua sofferenza, insegnaci ad unire il nostro dolore con te e come te a quello del tuo figlio Gesù, nostro unico Salvatore che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora con Riccardo e Francesco continuiamo la nostra preghiera per i malati, in particolare secondo le loro intenzioni. Quest'Ave Maria è per tutte le persone che non riescono ad essere curate dal Covid-19. E quest'Ave Maria è per tutti i morti che sono dal Covid-19. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ed ora qui nel cortile della parrocchia San Carlo Borromeo all'Alto Piano di Seveso ci portiamo alla fontana alla cui sommità c'è la statua della Celeste Madonna per concludere questo nostro momento di preghiera insieme. E lo facciamo usando le parole che il Santo Padre, Papa Francesco, ci ha affidato proprio in questo tempo di pandemia dovuta al coronavirus. E allora con le parole del Papa ci mettiamo in ginocchio per implorare per intercessione della Vergine Maria la fine di questa epidemia. Ci portiamo alla statua della Celeste Madonna per pregare e poi per ricevere per sua intercessione la benedizione di Dio Onnipotente. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a te, madre di Dio e madre nostra. E cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. O Vergine Maria, volge a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima. sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate, alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull'economia e sul lavoro. Madre di Dio e madre nostra, implora per noi da Dio, padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo figlio divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica, e dona loro forza, bontà e salute. Sia accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che con sollecitudine pastorale e impegno evangelico cercano di aiutare e sostenere tutti. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre Amatissima, fa crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un'unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce perché con fraternità e solidarietà veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, così che la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a te che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Amen. Per intercessione della Beata Vergine Maria vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E con la gioia della Pasqua, in questo mese di maggio, continuiamo ad annunciare e a con la vita che davvero il Signore ha risorto e cammina con noi. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Prendi na Cielo e Decareu. Aleluia!